Andiamo? No, 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 no. Pultare a destra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra E poi voltare a destra Voltare a destra Prepararsi a voltare a sinistra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Uscire adesso Passare a sinistra Ammbracare alla sinistra Attenzione Prepararsi a voltare a sinistra Perchè Pertanto D FOX Giornosti Attenzione Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. 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 Alla prossima.